ciao a tutti sono ilia viviani siamo nel 2022 e una nuova stagione sta per partire con una nuova squadra delle novità e dei grandi obiettivi a partire dalle classiche d'inizio stagione la milano sanremo la gun velvegan e poi il giro d'italia che sarà il centro della mia stagione tante novità ma ai miei piedi avrò sempre le scarpe dmt dmt è un marchio storico è nato nel 1978 e ha sempre vestito le scarpe ai migliori campioni del mondo il mio rapporto con dmt è nato quando ero veramente un ragazzino nel 2005 ero nelle categorie giovanili ho cominciato questo percorso di sviluppo e di progettazione delle scarpe insieme a tutto lo staff dmt e siamo cresciuti insieme questa è una cosa che mi fa veramente onore mi mi rende orgoglioso quindi mi sento parte della della famiglia il modello sarà il modello kr 0 una scarpa leggerissima con una nuova suola e due boa che permetteranno di stringere al meglio prima dei miei sprint quindi sarà un tutt'uno il mio piede con la scarpa il modello kr 0 è costruito interamente con una tomaia knit in materiale knit che permette alla scarpa di essere veramente come un calzino sul tuo piede quindi di essere veramente confortevole sarà disponibile in tre colorazioni l'arancione il grigio il nero e ci saranno delle bellissime novità in questo 2022 per quanto riguarda i colori